Adesso anche le parole del nostro Presidente, Graziano Crimella, dopo quelle del Capitano. 19 anni di carriera, insomma, è un risultato importante, una giocatrice che ha lasciato il segno nel mondo del volley. Gli ultimi due li ha fatti con noi, Presidente Adalbese. Tuo saluto a Mari Cabonetti. Mari Cabonetti lo vedo tutti. E' vero, confermo. Perché tu l'hai voluta anche a lavorare in azienda. Sì, diciamo che è stata una cosa, una conseguenza del fatto che lei sia venuta a giocare l'anno scorso l'Albese, perché naturalmente lei aveva del tempo libero, noi avevamo comunque la disponibilità di avere allora una mezza persona che ci aiutasse e da lì in poi sono nata in tutte le condizioni, lei ci ha messo il nostro impegno anche sul lavoro, per cui sono nata in tutte le condizioni finché lei poi rimanesse qui full time, cosa di cui io, ripeto, sono molto contento, contenta mia moglie, lei credo che si trovi bene in azienda, con colleghi, che si dicono che ho anche un po' le male. Io? No, è vero, come ho venuto. Però quando non ci sono sentono una mancanza. Presidente, no, dicevo, però anche il ringraziamento è un ufficiale da parte tua, da una società ovviamente del CS Alba per i due anni di Mari Adalberi. Certo, come dicevo prima, l'unico rammarico che ho è che quest'anno, come ha detto prima lei, l'anno scorso, è stato un bel anno, un anno di tradizione, non c'eravamo posti particolari obiettivi, siamo andati vicino a Creò. Quest'anno, per una serie di circostanze sfavorevoli, per una serie di errori, per una serie di infortuni, per quanto riguarda lei, abbiamo fallito quello che era l'obiettivo, per cui mi spiace, mi spiace soprattutto per la squadra, però mi spiace anche per lei, che probabilmente nel momento in cui dovesse aver chiuso la carriera, o comunque momentaneamente, magari sarebbe stato un bene che per lei, o anche per noi, che avesse potuto chiudere la carriera con un anno diverso. Questo mi rende un crescita. E' chiaro che poi i ringraziamenti per la persona, ci mancherebbe altro, io l'avevo voluta fortemente quell'anno lì, che è venuta da noi, e le cose purtroppo sono andate come sono andate, rimane comunque la stima per il giocatore e per la persona, perché mi sento mai neanche, fa parte anche della mia azienda, e questo mi è difficile, non ho neanche detto che domani possa fare parte anche della stagia iniziale dell'anno. mai dire mai? Perché no? va bene, con questo augurio. Grazie, no, io ho detto prima, ringrazio il Presidente, il ragioniere, chiamiamolo come... perché a seconda di dove mi chiamano, nessuno mi chiamano solo, mi chiamano ingegnere, cerco il bel affare, semmai sarò contentissima di farne parte. Mari, grazie ancora a te e grazie anche al nostro Presidente per ovviamente il saluto al Capitano, doveroso, in questa giornata, ufficializziamo anche questa fine ovviamente della... Ecco, voglio anche, tra l'altro, uscire un po' dal tema, e ringrazio anche Alberto che è qui, con noi che ci ha seguito tutto l'anno, in maniera perfetta, in maniera costante, sentendo anche a volte le varie pattugne, la mentire, magari mia, ma soprattutto magari qualche giocatore. Forse si è reso anche conto che qualche giocatore lo fa un po', lo fa un po', un po' per abitudine, ovunque. Allora, chiudiamo qui, grazie Presidente, in bocca al lupo anche a Mari per il suo futuro ovviamente, ciao, grazie.